cari amici e cari amiche di ciclo web e della vuelta a espagna fino a non tanto tempo fa quando sentivo dire o leggevo da qualche parte avere vent'anni pensavo invariabilmente immancabilmente a gloria guida e a lilli carati mi potete capire immagino oggi invece dopo di tempo se sento avere vent'anni penso a tadej pogacar o a egan bernal o a renko evenpool e insomma avete capito la deriva in atto è veramente tragica per me la deriva degli incontinenti da dall'età e però è così c'è questa ondata di ventenni che sta stordendo il ciclismo lo sta travolgendo sono fortissimi e ci stanno riempiendo gli occhi e la mente il cuore già solo a pensare a quello che sarà negli anni a venire ci rende già gioiosi allora volevo fare un giro oggi pogacar ha vinto all'alto dello smaciucos ed è risalito in terza posizione nella classifica della vuelta volevo fare un giro mentale dei vari movimenti dei vari paesi e vedere quali gioiellini ognuno ha su cui puntare negli anni negli anni a venire poi però ho pensato che mi sarei depresso una volta arrivato all'italia scoprendo che non abbiamo un giovane all'altezza di questi qui e quindi ho detto va bene dai cambiamo argomento non ci deprimiamo però possiamo restare sul malinconico andante che a volte ci sta ho fatto questa riflessione e cioè di questi ventenni che oggi riempiono con le loro fresche imprese le nostre menti e i nostri cuori alcuni diventeranno dei fuori classi assoluti dei super campioni di cui narreremo le gesta e che poi ricorderemo nei decenni a seguire alcuni ci riusciranno alcuni invece no alcuni si fermeranno prima non riusciranno a raggiungere quel livello arriveranno a un certo punto e poi si fermeranno o andranno a calare imboccheranno presto una parabola discendente può succedere succede sempre lo vediamo sempre nello sport nel ciclismo in particolare e quindi quello che mi chiedevo era come ci porremo poi noi di fronte alle promesse tradite alle attese e disattese di qualcuno di questi giovani campioncini saremo spietati saremo crudeli gli daremo la croce addosso tutte queste cose mi sono venute in mente oggi anche allacciandomi alla vicenda di fabio aru e al suo ritiro o meglio alla sua non partenza oggi nella tappa partita da bilbao per problemi muscolari per problemi fisici allora se io fossi venuto davanti a questo schermo a gettare la croce addosso a fabio aru avrei avuto buon gioco avrei avuto vita facile anzi avrei sicuramente avuto anche delle rispondenze in termini di commenti di like mi avreste dato ragione forse qualcuno avrebbe anche rincarato la dose però poi arriva un punto in cui secondo me è il caso di fermarsi e cioè se continua un certo tipo di problematica nella carriera di un corridore che senso ha poi dargli addosso dargli addosso dargli addosso a un certo punto sarà il caso anche di di fermarsi no di lasciarlo un po a risolversi i suoi problemi e poi se ritorna ritorna se non ritorna ma in pace resteremo a commentare quelli che saranno in gara o quelli che battaglieranno ad alti livelli perché dico questo perché anche a 28 anni a maggior ragione a 25 anni o a 20 anni ma anche a 30 comunque questi ragazzi sono comunque dei giovani delle persone ancora non del tutto compiute è vero sono adulti per la legge però ripensate a voi a 20 anni o a 25 anni quanti errori abbiamo commesso noi a quell'età quante convinzioni avevamo che poi sono rivelate fasulle errate quante cose non sapevamo e le abbiamo scoperte non mi riferisco tanto a questioni nozionistiche quanto proprio a questioni a fatti di vita esperienze naturalmente a 40 anni si sa molto di più che a 20 anni a 60 ancora molto di più e quindi che diritto abbiamo mi chiedevo noi di essere così severi così super critici nei confronti di questi atleti perché un conto è criticare una tattica sbagliata in gara va bene però criticare proprio un andamento una fase della carriera di un corridore che poi corrisponde alla fase di vita e noi che ne sappiamo è vero che l'essere corridore occupa un grande spazio nella vita di un ciclista ma non è tutto poi c'è tutta un'altra parte di vita che noi non conosciamo di cui non sappiamo nulla e che probabilmente influenza anche la carriera ciclistica abbiamo visto recentemente il caso di marcel kittel che ha deciso di ritirarsi dopo che non otteneva più risultati e abbiamo scoperto perché non li otteneva non perché fosse diventato un brocco ma perché semplicemente aveva altre cose per la testa che gli impedivano di concentrarsi sul ciclismo e quante ce ne possono essere di queste situazioni che noi non conosciamo che possono avere un'incidenza profonda possiamo fare degli esempi torni a casa e litighi tutti i giorni con la moglie e questo vuoi che non influenzi la tua vita lavorativa la tua carriera oppure hai un figlio che temporaneamente non sta bene naturalmente pensi lì pensi a lui oppure ti è morto il gatto o uno zio non lo so i tuoi genitori si stanno separando sono tanti motivi o tuo fratello ha perso il lavoro pensieri che possono influenzare incidere profondamente nella nella carriera di un corritorio di uno sportivo e noi non li conosciamo ovviamente noi abbiamo invece un approccio molto binario bianco nero buono cattivo alto basso invece ci sono mille sfumature in mezzo che sono proprio orientate da esperienze poi anche personali e private che noi non abbiamo il diritto neanche di conoscere e quindi su cui non abbiamo proprio il diritto di sindacare sia chiaro che non ho fatto nessun riferimento esempio concreto ho solo parlato per linee per linee generali però questi ragazzi di vent'anni o di venticinque anni quando uno di questi ventenni tra cinque anni sarà una promessa mancata noi non avremo il diritto di dargli la croce addosso dovremo semplicemente rispettare un percorso di vita perché a venticinque anni una persona che se ne dica non è una persona risolta in molti casi e per risolta intendo una persona che abbia fatto i conti con tutti i nodi risolti che si porta dentro che tutti ci portiamo dentro dall'infanzia dalle nostre prime esperienze i nostri primi traumi ce li portiamo avanti un rapporto burrascoso con il padre quanti di noi devono fare i conti nel corso della vita con queste cose prima o poi li si fa i conti quando poi tu a tua volta vivi delle esperienze che ti fanno empatizzare con quelle che può aver vissuto il padre ecco sto facendo proprio degli esempi spiccioli però è così e a vent'anni tante cose ti mancano a venticinque anche anche a trent'anni ti mancano tante cose e quindi io penso che sia il caso di non essere così spietati di non essere così crudeli di non di non bearsi nel dare addosso al corridore di turno che non ne imbrocca più una e lo dico prima di tutto ora rompo tutto lo dico prima di tutto a me stesso cioè mi devo ricordare di essere più umano va bene la critica sportiva però bisogna poi sapere sempre quando fermarsi cioè un attimo prima di diventare invadente di esagerare e di andare a toccare corde che devono restare intoccate perché sono sacre fanno parte del privato di un corridore pensate ai nostri errori che tipo di peso hanno avuto nel nostro sviluppo nella nostra vita e pensate che li abbiamo fatti nelle quattro pareti di casa cioè questi errori sono noti a noi e a chi ci sta vicino a quelle quattro cinque persone magari pensate invece un atleta uno sportivo un ciclista che vive questa vita sotto i riflettori pensate anche che carico di stress e di pressione ulteriore può rappresentare tutto ciò va bene ho pontificato abbastanza vi do appuntamento a domani con un'altra puntata della svueltina ciao da ciclo web restiamo umani